Nella notte tra venerdì e sabato un altro fronte attraverserà la regione portando piogge diffuse. Poi nel corso della mattinata di sabato affluirà aria meno umida ma che nel pomeriggio si farà instabile per via del riscaldamento. Quindi per quanto riguarda sabato mattina ancora cielo nuvoloso al mattino ma ben presto tenderanno esserci schiarite anche ampie e nel pomeriggio avremo variabilità sui monti con locali rovesci e qualche temporale mentre su pianura e costa nelle ore pomeridiane prevarrà il soleggiamento con cielo in genere poco nuvoloso. Temperature massime intorno ai 23-24 gradi in pianura sui venti lungo la costa. Per la giornata di domenica al mattino cielo poco nuvoloso su pianura e costa variabile sui monti, dal pomeriggio sui monti rovesci e qualche temporale che poi nel tardo pomeriggio potranno interessare anche la pianura. Temperature massime intorno ai 24 gradi in pianura, 20 gradi lungo la costa dove soffierà brezza. Sulla costa dopo una giornata di sole verso sera sarà possibile anche lì la possibilità di qualche rovescio isolato temporale. Lunedì ancora un po' di variabilità poi da martedì si afferma l'anticiclone sulla regione che durerà almeno fino a venerdì prossimo e quindi si aprirà una fase di tempo più stabile con temperature massime oltre i 25 gradi in pianura. Dall'osservatorio metro regionale dell'ARPA, un saluto da Marcellino Salvador.